It's the new style! Sentite che ho una voce abbastanza strana perché uno ho il raffreddore, due sono davvero stanco morto Quindi è una combinazione abbastanza distruttiva e quindi non riuscirò a parlare e a intraprendere meglio questo commentary Però speriamo che riesca a uscire qualcosa che comunque riesca ad accontentare gli standards del mio canale Comunque ragazzi oggi vi voglio parlare in breve, in quanto il gameplay non permette di farlo in modo un po' più dettagliato Quello che è stato il mio primo video su Youtube e con video intendo video fatto, editato, con commenti eccetera Perché se parliamo di video in generale, il mio primo video caricato su Youtube da me, da Midino Fu una, diciamo, clip piccolissima e schifosissima di Remington dove ne uccidevo tipo 10 in 7 minuti No, non è vero, ne uccidevo, era anche bella, dai scherzavo Ne uccidevo 10 in 30 secondi con il Remington e pensavo fosse una clip carina Allora ci ho messo un po' di musica sotto e l'ho caricata su Youtube Era un periodo dove ero davvero indeciso su come iniziare su Youtube E pensavo di intraprendere la strada delle clip con sottofondo musicale Dopo aver visto che questa, appunto, partita, questa piccola clip, ecco Non ebbe molto successo, decisi di cancellarla e intraprendere un format diverso Che è quello che comunque sto adottando tutt'oggi Il format che decisi di intraprendere è quello di un video molto semplice Fatto un po' in vecchio stile Con un commentary molto semplice affiancato ad un gameplay abbastanza carino E allora una mattina che ero a casa da scuola perché ero ammalato Ho preso la mia Playstation 3 L'ho collegata all'account di Call of Duty E intendo quello sul sito di Call of Duty Ci ho fatto su un miliardo di casini In poche parole sono riuscito senza il gatto a trasferire un gameplay in HD Dalla Playstation al computer Non mi chiedete come ho fatto perché non me lo ricordo Dato che era un anno e mezzo fa, quasi due In quanto era l'aprile del 2013 Questo video ebbe già più successo del precedente Ebbe una cosa come 7 likes in poche ore Forse neanche troppo poco In un giorno ebbe 7 likes Ma anche questo per motivi che non mi ricordo sinceramente Fu cancellato dal mio canale e voi non lo potete più ritrovare Magari un giorno ve lo riproporrò Era un video presentazione in poche parole Invece ragazzi l'11 maggio dopo aver ricevuto l'elgato Ho deciso di intraprendere a tutti gli effetti la mia carriera su YouTube E oggi siamo qua ragazzi Quindi nulla Spero di essere riuscito ad esprimere al meglio quello che volevo farvi sapere Ultima cosa ragazzi che vi voglio dire Mi scuso il fuck con Elisa Non so a quando lo rinvierò Credo comunque in queste settimane Perché come sapete, come vi ho già detto Siamo abbastanza impegnati Comunque vi invito a lasciare un bel mi piace Un commento Iscrivervi al canale E passare dalle due pagine Facebook Che trovate in descrizione Per oggi Dammi di noi è tutto E bella